eseguiamo i bicipiti bilangere bilangere non è proprio quello adatto perché è troppo lungo quindi potrebbe squilibrarsi un po ripeto sempre la palestra fatta senza integrazione o comunque semplicemente con una sana e corretta alimentazione noi abusi di potere noi carabinieri prodotti che mi hanno massacrato vedete anche i miei video dove mi hanno massacrato e mosso questi carabinieri che avevano i problemi psichiatrici questo semplice si butta l'aria quando si fa lo sforzo quando si va sopra ok 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 ok